Qualche giorno fa, The Telegraph, l'importante quotidiano del Regno Unito, ha inserito il Mandrea Music Festival tra i 26 migliori festival di musica dell'estate europea. Popolo e vibrazioni regge offrono, spiega The Telegraph, un clima rilassato per questa festa situata in un posto magnifico, sulle Prealpi, sopra il lago di Garda. C'è un'atmosfera leggera, hippie, che si è persa nelle altre feste e in più c'è cibo italiano come pizze cotte al forno a legna e cocktail. Il quotidiano britannico sottolinea le possibilità di praticare climbing e canyoning, decanta le spiagge di Riva e avvisa che quest'anno sul palco ci saranno nuovi importanti gruppi musicali.